Patos Distribution, che oggi ha l'onore di avere ben due opere qui in concorso a Ortigia Film Festival. Ho ammirato il coraggio degli organizzatori che in quest'anno così difficile e così faticoso sono riusciti comunque a mettere insieme una bella manifestazione, a far venire dalla gente, a chiamare un pubblico. E' bello che condividere una commedia con la gente.